È arrivata la badante di Pioli È arrivata la badante di Pioli Finalmente è arrivata la badante di Pioli Raga, è arrivato, ufficiale, ufficiale Cambierà la situazione del Milan? Risolverà i problemi del Milan? Non lo so, non lo so Perché l'hanno fatto arrivare troppo tardi Però è arrivato Ed è importante, una figura importante per il nostro Milan Uno che non dovevano farlo proprio andare via Raga, di tutto questo Di tutto questo Ne parleremo stasera ore 21 sul mio canale YouTube Ci sarò io Il Romagnolo Nero Azzurro Vi aspetto numerosi perché ne abbiamo di dire di ogni La badante di Pioli Così verrà soprannominato Perché, ripeto, questa è una grande vittoria di Zlatan Ibrahimovic Questo ritorno Questo fa capire come siamo conciati E che quello scudetto vinto è come ho sempre detto L'ha vinto perché c'era Ibrahimovic Il suo carisma Oggi tutti si sciacquano la bocca Ho già visto io le interviste Di Cardinale, di Fullani, di Scaroni Abbiamo preso Ibrahimovic come dimostrazione di voler tornare a grandi livelli europei Perché non l'hai fatto prima Questa è una grande invece sconfitta di Moncada, Furlani e di Stefano Pioli Che era quello che volevano evitare per quello che non è arrivato durante la sosta Poi ci racconteranno tutte le cazzate del mondo E' una grande sconfitta perché la sensazione che proviamo tutti È che siccome nessuno di loro è riuscito a fare andare il Milan a dritta Hanno bisogno di richiamare Zlatan Ibrahimovic Per fare in modo che tutto torni alla normalità Peccato che viene fatto troppo tardi O comunque tardi Con il Milan a 9 punti dal primo posto E con il Milan che rischia Rischia perché io ci credo Fino all'ultimo io ci credo Che rischia di andare fuori dalla Champions E volevano evitarselo Perché domani se passiamo Sapete cosa dicono se battiamo il Newcastle e passiamo Effetto Ibra Non diranno mai che è stato merito di Pioli Non diranno mai che è stato merito di nessun altro Effetto Ibra sarà il titolo E tutti giù con le orecchie Giustamente tutti con le orecchie per terra Con la testa bassa e dire sì Hanno ragione Perché questa è la realtà dei fatti Un uomo troppo importante Ibra Allora un fallimento anche di questo progetto Di dare tutto in mano al coach Al coach di sto cazzo Allo scotch Altro che al coach Come fai? Non c'era un simbolo tra la squadra e l'allenatore Tra la squadra e la società Di un Furlani e Moncada Che giustamente sono in giro Chi per il business Merchandising, marketing Tutte queste cose qua Chi a fare scouting Ma con la squadra Chi c'era? Qual era la figura importante? Tutto in mano a Stefano Pioli Che ovviamente non è in grado Di tenere tutto in mano da solo Però lui si sentiva figo Quando gli hanno dato tutto in mano a lui E intanto non si parlava di Dio Zlatan Poi quando siamo tornati a andare nella merda Abbiamo cominciato a parlare di Ibraimovic Una figura Raga sono stracontento Io sono contento Poi ci sfottono le altre squadre Fanno bene a sfotterci Fanno bene a sfotterci Ma non me ne frega un cazzo se ci sfottono Perché gli do ragione? Ma a noi era troppo importante questa figura Uno coi coglioni Carismatico In mezzo a tanti senza palle Grandissimi professionisti Perché io non sputo addosso Né al mercato che hanno fatto Furlani e Moncada Né a Cardinali Nonostante ha le sue colpi Però non salite sul carro di Ibraimovic adesso così La verità è che non è una questione di sviluppo Per diventare come dice Scaroni Per competere a livello europeo È un segnale Vi siete cagati addosso È un vostro fallimento In successo Perché non valete un cazzo A livello di campo Poi in tutto il resto siete bravi Perché io Furlani Non lo cedo per nessuna cosa al mondo Io Furlani Adesso già che ci siete Cardinale Un direttore sportivo Coi coglioni Un Sartori Furlani torna a fare la sua cosa Moncada torna a fare la sua cosa Andiamo a Bologna Per l'anno prossimo Per quando deve iniziare il mercato Sartori al Mila E siamo a posto Allora sì Che mi sento sicuro Ora però abbiamo da conquistare qualcosa E l'arrivo di Dio Zlatan sarà Un'amicia Perché Dio Zlatan Quando ti guarda negli occhi Quando ti guarda negli occhi Tu sai già quello che devi fare Perché Dio Zlatan Quando viene all'allenamento E fa il cazzone Lui lo sa già quello che deve dirti E sa quello che deve dirgli A mister Stefano Pioli E sa quello che deve dirgli A Furlani e Moncada Quando fanno il mercato Perché Zlatan Ibrahimovic Metterà il becco anche su queste cose Se per lui è un giocatore È una pataca Ibra te lo dice Perché è competente Perché ha giocato su tutti i campi Questo è un giorno felice Dopo tanti giorni di merda Poi mercoledì vedremo Mercoledì vedremo Però lasciateci un giorno felice Il ritorno di un simbolo Del nostro Milan Simboli che voi avete Ci avete pisciato addosso per mesi Un simbolo E questo è il simbolo migliore Che poteva venire al Milan Perché è vero Non amerà la maglia Però questo ai coglioni Ai coglioni Questo porta i coglioni In mezzo al campo Poi sarà importante A livello di Brand Sarà il brazzo destro Di Cardinale E espanderà il marchio Milan In giro per il mondo Con la sua faccia Però io sono sicuro Che Zlatan Ibrahimovic Non avrà paura Di andare da Cardinale A dirgli Va bene tutto Va bene fare una squadra Di bambini Ma se non mettiamo Queste cose qua dentro All'interno della squadra Non andiamo da nessuna parte Bene Sono contento Sono contento Delegittimato Mister Stefano Pioli Risolverà Cioè una cosa devo dire Non è che arriva Ibra E gli infortuni Non ci saranno più Cioè Però almeno Cambierà per me Il modo di allenarsi La serietà Il mangiare Il brucare L'erba del campo Queste cose Cambieranno Ci metterà becco Anche sul capitolo Infortuni Vorrà capire Prenderà a schiaffi Sulla pelata Mister Stefano Pioli Che ha fatto il fenomeno Fino a oggi Grande Questa è una mossa importante Che ha fatto la società Meglio tardi che mai Meglio tardi che mai Poi lasciateli Vi gira il cazzo Se vi dicono tutti Che abbiamo preso L'abadante di Pioli Che siamo ridicoli A fare una cosa Lasciateli parlare In tante cose Hanno ragione A sfotterci Ma per noi Deve essere importante Che Dio Zlatan C'è Raga Perché se rifiutava Dio Zlatan Allora Vuol dire che Era la situazione Del Milan Era merdosa Ora sogno Ora sogno La rinascita Del Laci Milan Sempre Forza Milan Dio Zlatan Laci